Io porto il saluto anche dal Presidente Errani che mi è piaciuto non poter essere presente ma è impegnato in un'altra iniziativa istituzionale. Penso che la Regione Marca abbia fatto molto bene a organizzare questa iniziativa. È un tema scordante che abbiamo sui territori. Non è affatto confuso rispetto ai provvedimenti legislativi e tra l'altro la Regione Marca essendo capofila dell'assessore regionale al commercio organizzando questa iniziativa, concludendo questa iniziativa possiamo decidere come dice il Presidente Spacca adesso, le iniziative da portare avanti anche in sede fatta a tutti anni. Voglio dire la verità quando fu presentato il decreto San Italia con la Regione abbiamo dato un parere contrario a quella di penalizzazione e abbiamo dato un parere contrario nel merito e qualche volta se si ascoltasse con più attenzione chi tutti i giorni non opera sul territorio e sa di che cosa parla si eviterebbero problemi si eviterebbero problemi e soprattutto si eviterebbe di rincorrere poi la soluzione di quei problemi. Perché abbiamo dato un parere contrario, abbiamo dato nel merito? Perché eravamo convinti che non avrebbe prodotto nessun aumento del PIB. Allora ricordo che fu presentato quel provvedimento all'interno del Salvo Italia con un incremento del PIB dell'1%. Quella cosa lì non ha prodotto assolutamente niente, né l'1 né lo 0,1. Ma creavano dei miei disagi. Già con le liberalizzazioni di Bersani noi avevamo trovato un equilibrio. Ad esempio nella mia regione, la regione Emilia Romagna, la nostra legge regionale prevedeva dieci chiusure obbligatorie poi ogni territorio comune turistico poteva andare in deroga rispetto a quelle dieci giornate. Per cui ad esempio è tutto evidente che il 15 agosto, che era tra le dieci giornate che si chiudevano non si chiudeva sulla costa, però vi ha ragione, ma in accordo con le associazioni di categoria e con le organizzazioni sindacali e c'era una forma di concentrazione, direi forte, che ci permetteva di gestire in maniera adeguata questo tipo di apertura. Secondo aspetto che eravamo contrari è perché toglie alle regioni, ma soprattutto ai comuni, un ruolo regolatore di condivisione con gli operatori commerciali e con le organizzazioni sindacali. Perché è chiaro che in questo modo, in questo modo, il pallino, come si dice da qualche parte, è esclusivamente in mano al singolo operatore commerciale che può decidere autonomamente di tenere aperto anche nei giorni festivi. Terzo aspetto non secondario, uno squilibrio tra le attività commerciali originali, i centri commerciali naturali, i centri storici e la grande distribuzione. Che questa è la parte più evidente che ci ha creato i problemi più consistenti almeno nel territorio delle regioni. Perché è chiaro che la grande distribuzione è più apprezzata, si può permettere di tenere aperto anche nei giorni festivi, ha, usa i contratti di lavoro che c'è il segretario generale in maniera, uso questo termine, flessibile, anche molto flessibile, dopo il termine di flessibilità dipende da catena di distribuzione a catena di distribuzione, ed è chiaro che è in grado di competere rispetto a una gestione familiare con catena di distribuzione completamente diversa. Nei fatti, queste cose le abbiamo detto quando è stato presentato a Giulia San Vitale, poi c'è chi cazzo altro, Sabine, perché ti ho fatto appunto un momento, nei fatti tutte queste cose si sono ampiamente dimostrate vere, vere. Non sono aumentati i consumi. È vero che c'è la crisi, nello stesso periodo i consumi si sono ridotti del 15%, essendo una media ci sono consumi che si trovano in maniera un bel più pesante, quelle alimentari ovviamente, non di questo livello. Si sono aggravati i rapporti tra i centri storici, i centri commerciali naturali e la grande distribuzione. Non è aumentata l'attrattività dei centri storici perché è comune, è venuta bene, una leva su quale poter valore. Quindi la richiesta rimane valida, cioè ritornare alla precedente legislazione dando la possibilità alle regioni e ai comuni di poter intervenire e regolamentare la materia secondo le caratteristiche e le specificità dei territori dove operiamo. L'Italia non è molto uguale. Cioè nella mia regione io non ho il problema di tenere aperto la domenica in alcuni territori, ho il problema di tenere aperto i negozi lunedì perché chiudono in quanto non hanno fatturati sufficienti e quindi diminuiscono i servizi soprattutto sulla montagna, sull'Apennino e quel processo di desertificazione della popolazione mi si aggrava. Quindi il problema non ha la liberalizzazione degli olari ma un'altra cosa. Ah, se poi chiedo un'altra cosa che da questa esattiva importante potrebbe uscire, che ci siano alcune rivisitazioni di alcune cose. Prendo ad esempio le edicole. Non è accettabile che le edicole debbano in quanto attività esclusiva o principale, debbano tenere tutta la filiera dei periodici e dei quotidiani acquistano. E la grande distribuzione possa scegliere che cosa mettere in vendita. Perché in questo modo qui si fa una concorrenza ancora più sleale nei confronti delle edicole perché è evidente che la grande distribuzione deve mettere in vendita i prodotti che tirano e quindi portando via a volte il mercato piccolato. Gli edicole si devono far carico, come si dice, della possibilità della distribuzione, della diffusione della carta stampata sul territorio nazionale. Quindi ci sono altri temi affettati da questo punto di vista. Sulla liberalizzazione delle attività commerciali, la cosa ovviamente ha caratteristiche diverse. Ora noi nella nostra regione abbiamo mantenuta incardinata nella programmazione urbanistica l'apertura di grandi e grandi centri commerciali. Quindi significa che se non c'è la previsione, ma questo immagino che sia anche per la regione mare, se non c'è la previsione urbanistica non c'è liberalizzazione che tenga, nessuno subito non ha. Non è un dettaglio perché a un certo punto della diffusione sembrava che ci fosse anche questo tipo di liberalizzazione. Noi abbiamo insistito nel incardinare l'urbanistica, l'urbanistica credo che sia un potere umano esistente, di come vogliono aiutare la propria comunità e quindi è del tutto evidente che questo tiene. E quindi da questo punto di vista la liberalizzazione non c'è, ma c'è nei negozi di vicinato dove c'è la distinzione urbanistica contro, c'è la liberalizzazione e quindi non c'è più distinzione tra alimentare e non alimentare, sempre alle piccole strutture commerciali nel momento in cui c'è la comunità economica e urbanistica. Soddisfatto? No, io non sono soddisfatto neanche di questa liberalizzazione perché c'è un problema anche da questo punto di vista. Il comune non ha nessuno strumento in quanto non vede più il passaggio di attività commerciale perché è una complicazione, non ha più nessuno strumento per intervenire in progetti di riqualificazione di asti commerciali. Io penso ad esempio a alcune aste commerciali che ho fatto sulla costa di Africa, la mia regione e il comune ha bisogno di avere alcuni strumenti per evitare un po' di alimento o degrado di alcune parti di quell'asta commerciale. Allora per evitare questo il comune dovrebbe essere adesso nelle condizioni di poter dire che nel momento in cui c'è un cambio di testazione, di gestione, almeno lo standard minimo di metri quadrati per quell'attività commerciale deve essere di una certa qualità in modo tale di aumentare lo standard della qualità dell'attività commerciale. Non potrebbero fare oggi, è chiaro che tutto è dato al mercato, in questo caso, come in molti casi, quando il mercato non è minimamente rinnovato, non porta un aumento della qualità, ma porta molto spesso ad un degrado dal punto di vista delle aste commerciali. Concludo dicendo che semplificare e liberalizzare con i principi manuali occorre fare a tenere conto delle realtà. Ridurre gli avviamenti burocratici va benissimo, ma anche da questo punto di vista è importantissimo mettere tutti sullo stesso piano. Ad esempio abbiamo problemi che riguardano gli opismi, anche qui l'abbiamo trattato, che è una forma di commercio, cioè non è un opismo di una qualità così, si vuota la cantina o la soffitta e fa il mercatino, non stiamo parlando di una parte consistente di opismo che è una forma di commercio camofabile e dove non c'è nessuna regolamentazione a livello nazionale. Cioè anche questo è un aspetto non secondario. Le distinzioni che ci sono tra una funzione artigianale di somministrazione di cipe bevande e una somministrazione di cipe bevande che invece si è incatenata in un pubblico esercizio. La sorvedibilità che deve avere una discoteca rispetto a quella di un ristorante, la sorvedibilità o il nord di sicurezza, penso all'antincenio. Io ritengo che se ci sono mille persone in una discoteca o mille persone in un ristorante il nord di un ristorante dovrebbero essere le stesse. Penso che invece di liberalizzare in grosso, se si affrontassero i problemi di pari modo che la concorrenza sia reale e paritaria, dove ognuno ha le proprie regole, ma in quel punto le regole sono uguali per tutti, credo che potremmo fare un passo in avanti. Io sono d'accordo con il Presidente Spacca sulla bocca, non particolarmente d'accordo, perché noi l'abbiamo già affrontato in questo governo, sugli ambulanti. Noi abbiamo risolto il problema degli ambulanti, che non era un problema piccolo per il nostro Paese, con un'interpretazione concordata con la Commissione Europea dell'applicazione della morte, con grande soddisfazione da parte degli operatori commerciali, del Comune, delle Regioni, dalla parte pubblica. E abbiamo chiuso un'intesa forte che ha coinvolto positivamente tutti gli attori. Tanto che siamo a Seniglia e siamo sulla spiaggia, mi auguro che, analoga cosa si possa fare per la spiaggia, che si inizia a parlare con chi è competente, il commissario per la concorrenza, questo che c'è stato l'incontro ieri alla Camera, e anche lì si può lavorare in maniera seria per trovare una interpretazione corretta e adeguata alle caratteristiche e peculiarità dei nostri politici che sono diverse di quegli altri paesi. Detto questo e concludo, io credo che da questo convegno possano uscire punti, iniziative e poi la ricerca, la guarderò con attenzione, spero e mi auguro che non smentisca quanto ho detto, sugli effetti di quella liberalizzazione che alla fine esca e che il filo è aumentato e le cose stanno andando, ma si è andato a confere, a quel punto mi devo fare un amico che so, ma non credo, non credo, non credo, credo invece che possano uscire contributi importanti che possano prendere poi in sede di conferenza delle regioni per riaprire un confronto con il governo nei nuovi e nelle sedi più opportune. Grazie e buon lavoro. Grazie.